Chi è che ha pagato per questa cosa? Io penso nessuno. Allora questo deve far riflettere molte persone. Mi grazie a loro perché continuano a far vivere questi morti che non devono mai osare. Perché a me mi dà noia quando si viene accusati che l'Ultra sono tutti delinquenti. L'Ultra è una grande cosa, sono aggregazioni, stare insieme. Io quando ho avuto bisogno della vita normale, mi hanno dato chi mi è stato vicino, sono stati tifosi della Juve che erano con me a Bruxelles, no? Quelle persone che tutti i giorni uscirono insieme. Grazie.